Il Comune di Napoli sarà il più grande d'Europa ad aderire alla rete rifiuti zero. L'accordo è stato formalizzato con una delibera comunale illustrata a Palazzo San Giacomo alla presenza di Paul Connett, fondatore della rete internazionale, che si propone di arrivare all'obiettivo rifiuti zero entro il 2020. È possibile secondo lei applicare la strategia rifiuti zero anche a Napoli? Assolutamente sì. Questo è un momento incredibile, non solo a Napoli, ma in tutto il mondo. Ogni nazione in questo momento vede Napoli per tanti motivi come il peggior esempio possibile di gestione dei rifiuti. Proprio ora invece è possibile che diventi un esempio assolutamente positivo di leadership mondiale nella gestione dei rifiuti. Partecipare a questo cambiamento sarà un'esperienza assolutamente eccitante. Il piano prevede in ogni esercizio commerciale della grande distribuzione l'installazione di attrezzature per la riduzione volumetrica di imballaggi in cartone, attrezzature per la vendita di prodotti alla spina sia alimentari che per la casa, introduzione del sistema del vuoto a rendere per i confezionamenti in vetro e l'incentivo all'uso di stoviglie biodegradabili e di pannolini lavabili. La delibera inoltre prevede l'istituzione di un sistema tariffario basato sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti per privati. Sul fronte dell'impiantistica è prevista la realizzazione di un centro comunale per la riparazione e il riuso. Infine, nel testo deliberato dall'amministrazione si fissa l'istituzione dell'osservatorio verso rifiuti zero, con il compito di monitorare il percorso per il raggiungimento del traguardo. Ma io credo che bisogna nei momenti di difficoltà avere la lungimiranza e l'idea che si possa fare anche in una città come Napoli, si possono raggiungere gli obiettivi che si muone la logica dei rifiuti zero. Noi la delibera che abbiamo approvato e la presenza oggi di Paul Connett, che è il padre, l'ispiratore di questa filosofia, che sta raggiungendo risultati importanti in tutto il mondo, si pone l'obiettivo di farlo entro il 2020. Questo significa che poi tutte le azioni dell'amministrazione dovranno muoversi in questa ottica, dalla riduzione degli imballaggi alla riduzione della produzione dei rifiuti, prima ancora nella prevenzione e per fare questo ci saranno anche un osservatorio che avrà l'obiettivo di mettere in campo tutte quelle misure che sono utili per muoversi nell'ottica della riduzione dei rifiuti.